Questa sarà probabilmente la quindicesima volta che sto cercando di registrare questo video perché sono davvero tanto in difficoltà. Potrei fare un video totalmente polemico lamentandomi del fatto che la Roma nel secondo tempo ha lasciato quasi completamente l'azione in mano ai nostri avversari che per poco appunto sono andati vicino al gol del pareggio in più occasioni. Oppure potrei comunque considerare il fatto che hai ottenuto la quarta vittoria nelle prime cinque giornate non subendo gol, giocando anche in una maniera un po' così discontinua e quindi la cosa positiva può essere che se continui a vincere anche giocando un po' così figurati quando appunto troverai la quadra e riuscirai a giocare un calcio propositivo soprattutto che non permetterà ai nostri avversari di avere continue palle e gol. È un po' un combattimento che ho dentro la testa ma cercherò diciamo di sfruttarlo per farvi un'analisi dettagliata della partita che ho appena visto. Indubbiamente come ho appena detto i tre punti erano la cosa più importante guardando il fatto che tutte le big avevano praticamente vinto Juve, Milan, Inter, Atalanta, la Lazio ha pareggiato però comunque a parte loro hanno tutti quanti ottenuto i tre punti non vincere oggi sarebbe stato deleterio soprattutto in vista del derby di domenica che è una partita se anche se la Lazio non sta vivendo un momento di forma tanto migliore del nostro sono partite indecifrabili perché possono diventare divertenti con gol da una parte e dall'altra oppure possono diventare deprimenti con poche occasioni e che si possono tramutare in uno scialbo pareggio oppure nella vittoria di una delle due squadre anche con poche occasioni create verso la porta avversaria. A proposito del derby è una delle note positive di oggi indubbiamente è il rosso di Pellegrini allora io forse sarò troppo di parte ma ammetto che se sul primo giallo nulla da dire perché comunque aveva fermato un'azione di gioco pericolosa dell'Udinese sul secondo io non capisco perché ha voluto punire quel gesto nel senso vuoi punirlo col fallo va bene ma non è una gomitata che non è mai una gomitata che cerca di far male al giocatore è semplicemente uno stacco alto con il braccio un pochino largo lo sto rivedendo proprio in questo momento forse ecco forse un po' non è proprio regalato nel senso che un po' di contatto c'è però è stato molto molto severo e possiamo dire che è un'assenza che peserà tanto è vero che davanti comunque le alternative ce le hai però un Pellegrini così in forma non avercelo per il derby è davvero un problema è davvero un problema speriamo appunto che Mourinho riesca a convincere tutti gli altri giocatori credo che si opterà diciamo per El Sharawi titolare e Mkhitaryan trequartista a meno che non si inventa qualcos'altro ma non lo sapremo come ho detto allora la Roma ha iniziato subito colpiglio giusto mi è piaciuto questo aspetto perché abbiamo cercato subito di spingere l'Udinese verso la propria area di rigore Udinese che come era prevedibile ha iniziato la gara molto difensivamente cercando di non concederci troppe palle e gole sfruttando magari quei piccoli errori che purtroppo costantemente facciamo sia a livello di possesso palla sia a livello proprio di concentrazione in fase difensiva e siamo andati meritatamente in vantaggio con un bellissimo gol di Abram ancora non so come cavolo l'ha colpita suo assist perfetto di Calafiori e qua voglio aprire e chiudere una parentesi Calafiori ha un grande merito sul gol perché ha fatto una nazione da solitaria una palla che io non credevo mai potesse andare diciamo in area di rigore è stato bravo, è stato tignoso, è stato grintoso e quindi il gol è buona parte merito suo però, però, c'è un però allora a livello offensivo l'ho detto grande assist e grande gol ma difensivamente è inconsistente da far paura cioè allora sia lui ma anche Kalsdorp però lui molto di più hanno lasciato praterie incontrastate verso i nostri avversari e loro purtroppo lo stanno capendo ogni nostro avversario ci colpisce sempre sulla fascia l'ha fatto il Verona e l'ha fatto adesso anche l'Udinese poi magari sono stati frettolosi, sono stati anche imprecisi tra l'altro è entrato nel secondo tempo adesso mi sfugge il nome un giocatore che si è fatto fascia, difesa veramente clamoroso un giocatore con le trecine mi sfugge adesso il nome mannaggia però è entrato in maniera clamorosa e anche lui sulla fascia si è divertito a fare quello che gli pare Calafiori se lo giudicassi per la fase difensiva sarebbe da 4,5 ma neanche da 5, 4,5 e chi ha visto la partita ed è onesto sa che non dico una cazzata perché non è che ce l'ho con lui ma effettivamente se tu ogni minimazione che viene fatta sulla fascia lasci i praterie e non sei mai al posto giusto perché attaccavano, doveva arretrare i bagnats perché lui era centrocampo cioè ha sbagliato mille volte il posizionamento gli interventi in mezzo al campo può crescere tranquillamente a 19 anni per carità di Dio non è che lo sto massacrando anche perché appunto il gol decisivo porta la sua firma però ecco attualmente lo vedo molto più forse dire una cazzata come esterno d'attacco magari quando ti manca qualcuno che come effettivo terzino speriamo che con la Lazio torni vigna perché anche se lui non è proprio il massimo a livello difensivo sicuramente sa coprire un po' di più la sua zona di competenze quindi ecco sto rivedendo adesso il gol bravissimo Calafiori dietro ancora deve capire un pochino proprio i dettami della fase difensiva per il resto diciamo che in difesa i centrali non se la sono cavata male Mancini ha fatto un salvataggio clamoroso sul primo tempo si è sfregiato tutta la faccia ma ha fatto un salvataggio incredibile e poi anche nel secondo tempo non mi è dispiaciuto Ibagnaz anche lui non male ho letto alcune critiche verso di lui ma per me non ha giocato malaccio al centrocampo Veretù bene Cristante molto meno allora io ovviamente non è che voglio ricominciare con il massacro a Cristante ha fatto anche dei buoni interventi in mezzo al campo fisici e tutto quanto però ne ha persi anche tanti cioè ne ha persi tanti ha perso anche qualche pallone di troppo uno davanti al limite dell'area che poteva essere pericolosissimo e io non accetto delle leggerezze di questo tipo da un giocatore comunque di una certa esperienza come lui hai la palla lì non è facile spazzala buttala pure in calcio d'angolo basta che non la regali al tuo avversario è meglio un angolo o un gol subito ok io parlo da qui davanti alla telecamera però è un qualcosa che uno deve capire sto lì ho il giocatore vicino ho ricevuto una palla brutta buttala via vabbè comunque lasciamo perdere davanti ecco allora davanti benissimo Ibram bellissimo gol poi ha provato a sacrificarsi però non gli è arrivato praticamente nessun pallone giocabile dietro ecco allora dietro Mkhitaryan bene ma Zaniolo male allora ho fatto un video in sua difesa qualche giorno fa sicuramente non è che i tifosi adesso ce l'hanno con lui però deve un po' ritrovarsi deve un pochino ritrovare la continuità sul campo non so se giocherà titolare con la Lazio speriamo che magari possa essere una motivazione ulteriore per lui giocare il derby dopo tutte le cose che i Laziali hanno detto praticamente da quando veste la maglia della Roma fatto sta però che oggi l'ho visto molto disattento diciamo che ha sbagliato quasi tutte le scelte che ha provato a fare che poteva essere un semplice passaggio al compagno un semplice dribbling una semplice marcatura ho visto a un certo punto Karlsdorp e Mancini che lo hanno rimproverato quasi mangiandoselo perché non ha aiutato in fase difensiva e l'Udinese stava per segnare deve migliorare ecco cioè secondo me ha tutte le carte regola per farlo ha anche il tempo però deve stare attento perché comunque è davanti alla Roma alternative e deve conquistarsi il posto perché adesso è lui il titolare però se non si è in forma c'è Shomurdov che scalpita e non vede l'ora diciamo di addentrare qualche minuto ed entrare all'altro posto quindi un po' più di attenzione ecco allora poi parlando del secondo tempo l'ho detto la Roma è calata troppo perché ho visto proprio un calo fisico una stanchezza da parte dei giocatori non dico inconsueta perché stiamo giocando veramente una volta ogni tre giorni tra conference, turni infrasettimanali e tutto però proprio l'ho visti sulle gambe gli ultimi dieci minuti siamo stati semplicemente a tenere palla dietro lanciarli in avanti aspettare che Ludinese la perdesse riprenderla lanciarli in avanti male male anche a livello offensivo non mi sono piaciuti perché comunque le poche occasioni che abbiamo avuto sono andate proprio alle stelle non ho visto proprio quei tiri che tu dici ma che miracolo del portiere cioè noi abbiamo fatto tre tiri in porta uno è il gol di Ebram altri tiri all'inizio con i due pali dopo pochi minuti anche su questo molto fortunati però poi poco poco perché è questa la cosa che mi fa arrabbiare è vero che se tu magari impari a vincere giocando male potrai vincere più facilmente giocando bene spero che abbiate capito il discorso però devi fare qualcosa di più perché l'hai mantenuta in bilico fino alla fine poteva esserci un episodio a caso come magari lo è stato il gol di Echalawi a nostro favore e te la prendevi nel di dietro e sinceramente come con Sassuolo l'ho detto lo dico anche oggi se fosse finita 1-1 non avrei avuto nulla da dire e questa è la cosa che non mi piace nel senso sì bene vincere giocando male ma un po' più di cinismo sottoporta ma in questo caso un po' più di attenzione dietro perché purtroppo sulle fasce abbiamo un grande problema abbiamo messo i bagnets nel secondo tempo che ha fatto qualcosa però è normale che non è il suo ruolo quindi ecco vediamo un po' detto questo ragazzi allora fatemi sapere con un bel mi piace se vi è piaciuta questa recensione di Roma Udinese 1-0 ci vedremo domani per le vagelle che credo farò a modalità video non ho il tempo materiale già lo so per poterlo montare e fare tutto bene mi dispiace ma comunque già vi avviso ma vi prego non ve ne andate dal mio canale vi scongiuro cercherò di farlo in maniera dettagliata e di non essere troppo rompicoglioni un saluto ragazzi sempre Forza Roma dai ragazzi continuiamo così o meglio continuiamo a vincere però qualcosina di più si può fare secondo me un saluto ragazzi sempre Forza Roma dai